Sono anche un po' in difficoltà, vediamo ora di sbloccare, di rompere il ghiaccio con qualche domanda delle vostre, sempre belle e simpatiche, quindi a cui risponderò. E poi la Champions, perché tanto tutti mi domandate la Champions, tutti ridete, ora se mi dici queste delle cinque sostituzioni, io spero di un fa' casino perché non ci sono abituato, è la prima volta, quindi non lo so. Però, quindi magari all'inizio io mi attengo su tre, poi dopo vediamo, poi magari passa a quattro, poi dopo a cinque, magari ne basta solo una. Datemi almeno tempo di vederlo perché l'ho visto in due allenamenti, mago non sono, tento di fare l'allenatore, quindi magari qualche giorno a 86-86, tra 86 e 88 sarà la quota scudetto secondo me, occhi e croce. Così è una mia sensazione, magari mi sbaglio, siamo al 20 luglio, però, insomma. E Chiellini non è un problema? Il problema è che io non mi sono scusato le domande. Aziendalista, che a me è una parola che piace molto, aziendalista, vuol dire che alla fine io devo portare risultati e creare valore. Bonucci e lei, però Bonucci, Bonucci se n'è andato, quindi se n'è andato e lì ha perso. Eh, se n'è a zero, che dai fa? Quando uno dice una cosa, si prende una decisione, è andato via, è tornato, e ora è capitato, il capitato fa un altro. Se va la fascia la compri e va in piazza a giocare con la fascia. E lei è passato in fondo. E ora piano piano sta riscalando. Poverino, sono arrivato, non ho fatto tempo a mettere dentro la continazza che lui è andato a operarci alla fornaca, quindi... E lei è passato in fondo.